Non cambia la vita ma è una grande soddisfazione Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi un video speciale, un video in più nella programmazione di Arte per Te per condividere con voi un momento speciale un momento fatto di voi, anzi è un momento fatto di noi dentro questa scatola ci siamo noi il mio lavoro tra virgolette speso sul canale il mio impegno invece senza virgolette speso sul canale la vostra presenza, il vostro esserci, il vostro apprezzare quello che ho fatto il mio appassionarmi a quello che ho fatto ogni giorno di più grazie a voi, grazie alla consapevolezza che c'eravate voi dall'altra parte Signori è arrivato il premio di Youtube il pulsante d'argento per Arte per Te non l'ho ancora aperto, l'ho tolto dalla scatola appena ho visto la scatola la mia reazione è stata sapevo che sarebbe arrivato arriva dopo i 100.000 iscritti e li abbiamo superati, li abbiamo superati già da quasi 16.000 iscritti quindi è arrivato il momento di condividere con voi una parentesi importante che non è né un punto di arrivo né un punto di partenza è un momento nella vita del nostro canale, del nostro Arte per Te su cui tanto spendiamo energie allora io mi metto così e apro insieme a voi wow allora la lettera che vi metterò in allegato con una bella fotografia in modo che potrete leggere poi e poi siete pronti? siete pronti? pronti? eeeh voilà eccolo qua il pulsantone d'argento lo tiro fuori dalla confezione bello ragazzi e allora fatto per Arte per Te Arte per Te nel raggiungimento delle 100.000 sottoscrizioni bene, vedete questa scritta? qui ci siete tutti voi e ad uno ad uno anche a quei 15.000, quasi 16.000 che qui non sono scritti ma che ci sono io dico grazie voi, noi, io e voi siamo qua dentro non siamo qua dentro è giusto qualcosa che ci ricordi lo stare insieme da 5 anni continuativamente e grazie è stato bellissimo aprire oggi lo scatole e trovare appunto il tappo nero che stava a indicare che il pulsantone silver era arrivato sono felicissima non volevo farla passare così in sordina con indifferenza come se la cosa non contasse per me perché per me conta tantissimo è da tanti anni che investo le mie energie su questo canale è da tanti anni che ho fatto della condivisione è da prima di youtube che ho fatto della condivisione della esportazione di quel poco che so il mio must il mio volere quello che voglio fare voglio comunicare agli altri quello che ho imparato a fare e quindi anche se poco fosse lo voglio dire e quindi grazie per essere lì ad ascoltare quello che ho da dire a supportarmi a incoraggiarmi a volermi bene arte per te grazie a dio è un canale bellissimo senza brutture senza gente antipatica senza gente polemica è un canale molto per bene fatto di persone stupende guardate che arte per te nel panorama di youtube è proprio una rarità commenti sotto i video come i commenti di arte per te sono una perla preziosa veramente arte per te mi ha permesso quindi voi mi avete permesso di entrare in contatto con tante aziende del mondo dell'arte enormi che hanno dato fiducia a me come portavoce del loro prodotto e questo è stato meraviglioso e quindi grazie grazie a tutti grazie per esserci e mi raccomando diventiamo tanti di più l'unica cosa che mi mi lascia un po' così è che prima potevo parlare veramente con tutti mi mandavate una mail e sicuramente vi avrei risposto oggi vi posso dire leggo l'ottanta per cento delle mail non voglio essere bugiarda non le leggo tutte non riesco a leggerle tutte però e rispondo solo a chi ha veramente una necessità tra quelle che leggo perché non ho proprio il tempo non ho voluto demandare ad agenzie che mi hanno proposto ogni giorno arrivano lettere di agenzie che mi propongono di gestire il canale per facilitarmi il compito ma non ha senso perché voi scrivete ad ombretta e volete che ombretta vi risponda giustamente non volete che Pinco Pallo da un paese X vi dica la sua anche perché il nostro è un canale così tecnico che magari neanche vi saprebbe rispondere e allora preferisco la sincerità come sempre qui a casa vostra su Art Ted Per Te troverete ombretta troverete le sue risposte che non possono essere per tutti perché ormai siete tantissimi troverete dei prodotti recensiti con assoluta onestà intellettuale credetemi non mi sono mai fatta pagare dalle aziende per recensire i prodotti proprio perché voglio essere libera di dire la mia e di portare sul mio canale solo quello che mi piace io ometto tutto quello che non mi piace e vi porto solo il meglio e questa libertà la da solamente il non essere comprati dalle aziende perché è naturale in quel caso diventerebbe un rapporto lavorativo a me basta YouTube non mi interessa i rapporti lavorativi con le aziende li gestisco al di fuori di YouTube e ne ho grazie a Dio quindi va benissimo così quindi grazie anche per questo ti ho fatto assistere al momento magico di arte per te molti youtuber neanche lo fanno vedere io invece ci tenevo troppo perché è una bella cosa su YouTube voi sapete io ci sto ci investo molto tempo della mia vita io credo nella condivisione credo nei contenuti seri credo nei contenuti utili credo che la professionalità possa essere anche sviluppata su YouTube internet viene visto sempre di più come il male assoluto no non è così internet è ciò che noi decidiamo di farne quindi noi abbiamo deciso di fare arte per te e ci godiamo ora il bottone d'argento mi ricorderà di voi di ognuno di voi ogni volta che lo guarderò quindi volevo solo condividere questo farvi i miei auguri siamo stati premiati quindi auguri a tutti voi per far parte di questa famiglia di centomila e più individui e grazie per esserci e grazie sempre e viva la vita e viva la voglia di fare un grande bacio da ombretta e d'arte per te è tutto ci vediamo qui per il prossimo video ciao ciao